Certo, è quello che abbiamo voluto fare, cioè dire che svoltiamo pagina, è una svolta anche in modalità di investigazione perché finalmente abbiamo capito che qui l'associazione mafiossa si muove come imprenditoria e quindi con modalità e tecniche diverse da come si muove in altri luoghi. Per questo riteniamo molto importante, molto rilevante, un punto fermo nell'indagine di contrasto alla criminalità mafiosa. In Emilia in particolar modo perché l'indagine odierna riguarda esclusivamente l'Emilia, parte da Modena e quindi poi, l'ho già detto, attraverso Reggio Emilia che è l'epicentro, passa per Parma-Piacenza e tocca l'altra riva del Po nella zona di Mantua in particolar modo.